Buongiorno benvenuti a questa rassegna stampa oggi di 24 marzo del 2020. Allora sui giornali che cosa è successo? Sui giornali è successo che ieri c'è stato il primo dato diciamo relativamente positivo ma in realtà è drammaticamente negativo sui contagiati e sui morti perché se non sbaglio i morti sono 601 e i contagiati sono diminuiti rispetto al giorno precedente quindi quella famosa curva di contagiati e di morti sta diminuendo e quindi ci sono secondo il Corriere della Sera i primi spiragli questo dal punto di vista diciamo di quello che succede però il Corriere della Sera è fantastico mentre da una parte dice che ci sono i primi spiragli sul numero dei morti e dei contagiati dall'altra parte fa un pezzo in cui dice che solo a Milano ci sarebbero 1800 malati che sono sfuggiti a qualsiasi tipo di analisi che è quello che più o meno stiamo dicendo da qualche settimana e cioè che moltissimi asintomatici come sono io in questo momento e che però non hanno fatto il tampone perché i tamponi sembrano un privilegio moltissimi asintomatici in realtà o anche con delle febbri che attribuiscono all'influenza non vengono considerati malati di coronavirus anche perché per l'80% delle persone è un'influenza non più di un'influenza e come tali però in realtà anche quando vanno a fare le cose che anche oggi sono permesse sono di fatto contagiosi ma questo è voglio dire tutta colpa di Fontana secondo il fondo di Travaglio che ormai ci ha scassato la testa perché è una settimana, sono 15 giorni da quando è iniziata il grande fratello di Casalino e Conte che ci spiegano quanto sono bravi Casalino e Conte, quanto è bravo il modello italiano e quanto sono una pippa i governatori in particolare Fontana, è una specie di campana, un disco rotto che leggiamo da una vita ed è fantastico come qua la critica di un giornale tosto dalla schiena dritta come il Fatto Quotidiano sia nei confronti del governatore della regione oggi più colpita e che disperatamente sta cercando di trovare una soluzione a differenza di quanto fanno Travaglio e amici, a meno che non dobbiamo affidarci al Fatto Quotidiano che aveva capito tutto perché oggi vi giuro, vi giuro in prima pagina sul Fatto Quotidiano io pensavo fosse un pezzo da ridere, in realtà poi me lo sono letto tutto il pezzo c'è il seguente pezzo e cioè che gli astrologi avevano capito che il 2020 sarebbe stato un anno di merda, gli astrologi! Allora se tu metti Travaglio contro Fontana e gli astrologi del Fatto Quotidiano e la difesa di Conte, il più grande leader politico che si possa immaginare, capite l'affidabilità del giornale con tutto il rispetto nei confronti di quelli che ci lavorano, insomma di alcuni di quelli che ci lavorano. Andiamo sulle cose serie e c'è questa roba dei tamponi e lì sulle questioni dei tamponi c'è una foto, cioè quella del Quotidiano Nazionale diretto da Michele Brambilla che racconta tutto quanto perché fa vedere la foto di un calciatore e fa vedere la foto di un medico. Il calciatore con chi ha a che fare? Zero persone se non la sua famiglia. Il medico con chi ha a che fare? Con l'ospedale, con i malati, con i non malati, con i suoi colleghi, con l'infermiere. Bene, a uno si fa il tampone, all'altro no. Adesso questo non si può generalizzare perché alcuni ospedali, alcuni all'interno degli ospedali gli fanno i tamponi, però il principio che mette il Quotidiano Nazionale è molto banale ed è quello di cui stiamo discutendo da settimane. Ragazzi, adesso abbiamo detto facciamo i tamponi a tutti e non si possono fare i tamponi a tutti, facciamo i tamponi sintomatici e non si possono fare i tamponi sintomatici, ma porca miseria, ma facciamo i tamponi a tutti quanti quelli che sono a diretto contatto con tantissima gente come sono ovviamente gli operatori dei sanitari, almeno il minimo che si debba fare. Io la trovo una cosa incredibile, ma non se ne parla e diciamo che questo è l'aspetto sanitario. Vi segnalo soltanto che dal punto di vista sanitario la Spagna è il paese che si sta avvicinando purtroppo per loro più a grandi passi al grande caos italiano, 462 morti in Spagna, dobbiamo ritornare mi sembra al 18 marzo per averne così pochi drammaticamente da noi rispetto ai 601 dell'Italia ieri, però la curva di crescita del contagio in Spagna è molto molto alta. Nel frattempo ci sono altre due o tre cosette, quelle che mi interessano di più sono quelle che prendo spunto da Mario De Aglio oggi sulla stampa. Il professore dice, e ve lo leggo, i nostri problemi nasceranno quando diminuiranno i contagi. Intanto fino ad oggi è un disastro, perché nonostante quello che pensano Travaglio, Conte e Casalino, in realtà questo è il paese che ha avuto più morti certificati, che poi siano certificati con il coronavirus o per il coronavirus, è un altro dei problemi italiani, cioè quelli che noi stiamo certificando più morti degli altri, ma comunque sulle caratteristiche, sulle statistiche siamo il paese che sta facendo peggio degli altri, ma dice De Aglio giustamente oggi sulla stampa, una volta che vinceremo, se la vinceremo la battaglia contro il virus, avremo la grande guerra da vincere che è quella dell'economia e qui purtroppo, toc toc, non ci sentono, non lo capiscono, perché i 6.000, 7.000 morti che porteremo sul terpeto per il coronavirus, vi segnalo che in Italia muoiono normalmente 1.700 persone al giorno e bisognerà vedere alla fine quanti saranno i morti totali considerati 1.700 che normalmente muoiono, ma comunque quando noi vedremo e faremo questa tristissima contabilità dei morti, non avremo ancora fatto la contabilità dei morti, suicidi, di morti di fame, i morti di lavoro, i disoccupati, qua si parla di milioni, milioni di disoccupati, si tratta di un dramma civile che se non ci pensiamo oggi, come dice giustamente De Aglio, domani ci arriva in faccia, come ci è arrivato in faccia il virus della Cina senza rendersi conto che potevamo fare forse mascherine e tamponi molto prima invece di sottovalutare dicendo non arriverà mai da noi, o no? Invece noi abbiamo chiuso tutto, abbiamo deciso che le libertà degli italiani non contano, qua fatemi aprire una parentesi, ieri diceva Galli della Loggia in una trasmissione che abbiamo fatto insieme, ci diceva ma tu sei un leguleio, allora io capisco, a me anche non stanno simpatici i legulei, però caro Galli della Loggia non è una questione di legulei, oggi basta leggere un filosofo del diritto, Santoro, intervistato dal foglio quotidiano e vi invito a farlo perché dice una cosa che io sposo in pieno e cioè intanto che noi abbiamo tolto le libertà italiani con un atto amministrativo e questa non è una questione di legulei, questa è una questione sostanziale, Cadorna fucilava senza nessun atto amministrativo, durante la prima guerra mondiale abbiamo fatto il patto di Londra in cui abbiamo cambiato alleanze con un atto amministrativo senza informare nessuno nel Parlamento, solo re e governo, ma comunque era un'altra situazione, ragazzi come dice giustamente Santoro oggi, vi prego, è molto oltre ad aver dichiarato lo stato di emergenza effettivamente in gazzetta ufficiale come dicono molti di voi, il rischio che di fronte ad emergenze meno gravi, questo dice Santoro, ci saranno DPCM, cioè decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per limitare le nostre libertà, io vi chiedo, ma secondo voi quando ci sarà l'emergenza economica? Pensateci un attimo, fissatevi su questa idea, quando ci sarà l'emergenza economica? Cioè fra un mese, fra due mesi, non so quando finirà questa emergenza sanitaria e quando inizierà l'emergenza economica che è già in atto, quando ci sarà l'emergenza economica e ci saranno le rivolte e ci sarà gente furibonda? Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, là che ci sarà la rivolta e là che ci sarà l'emergenza economica, vi tolgono i soldi dal conto corrente, vi possono fare la patrimoniale, voglio che sentiate questa roba qua, perché adesso siamo ancora ai balconi a cantare, vi voglio vedere due settimane a casa chiuse di arresti miciliari e vi voglio vedere fra due mesi quando vi tolgono soldi e patrimonio attraverso un DPCM, hanno tolto la nostra libertà con un atto amministrativo che non è discusso dal Parlamento perché in una prossima emergenza non potranno togliere soldi dal vostro conto corrente senza nessuna autorizzazione parlamentare, perché? Qual è la differenza? Questo è quello che io chiedevo e chiedo e urlo a gran voce, il Parlamento serve a questo, ma evidentemente come Casini e Galli della Loggia ieri mi hanno fatto capire, sono un leguleio. Nel frattempo l'economia è un disastro e ha ragione il Tempo, Bekis, che su questo è molto attento e sapete perché oggi il Tempo fa un titolo molto semplice, non è arrivato ancora un euro. Hanno fatto un decreto da 25 miliardi nel momento in cui la Germania la fa da 1576, 1576 e loro si attendono una decrescita del 5%, potrebbe essere una decrescita addirittura, secondo l'IFO, del 20% del PIL tedesco e quindi vorrebbe dire la morte anche per noi. Insomma, noi dei 25 miliardi rispetto a 1576 della Germania, che ha sì 80 milioni di persone e sì la prima economia europea, ma noi siamo la seconda o la terza, noi 25 contro il 1576, ma di questi 25 non è arrivato un euro, un solo euro, come dice giustamente oggi il Tempo, sono due settimane da quando è stato iniziato lo stato di emergenza e noi non abbiamo beccato ancora una lira e la gente deve fare la spesa e prima o poi questi non canteranno più i balconi, questo è il punto fondamentale e non si berranno più, io ne sono convinto Conte che si fa le sue operazioni su Facebook. Molto bello dal punto di vista finanziario il titolo di MF, che ha un senso perché dice c'è il piano ma manca Marshall, riferendosi al piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale. Il piano è che ogni paese sta provando a fare qualche cosa, la BCE, la Fed stanno facendo qualche cosa, ma non c'è poi da sostanza un'idea coordinata per capire come usciamo da questo pasticcio economico, perché tra poco ci sono le macerie peggiori rispetto a quella di una guerra, lo scriveva qualcuno oggi su un giornale, durante le guerre le fabbriche continuano a funzionare anche di più, qua durante questa guerra non stanno funzionando le fabbriche, anzi sapete cosa succede? Succede che oggi io mi leggo Landini, sull'intervistato da Repubblica, aspettate che me lo sono segnato da qualche parte, che dice il mercato da solo non va da nessuna parte, ritornano i bolscevichi e poi Landini che in questo momento cosa dice? Facciamo lo sciopero! Già è chiusa mezza Italia, mo facciamo lo sciopero, ma voi vi rendete conto che i sindacati in questo momento cosa propongono? Lo sciopero! Ma ha ragione Bonomi, oggi intervistato da Marcello Zacche sul giornale, il presidente Lasso Lombarda, che dice ma voi siete scemi, lo sciopero è inaccettabile, allora in un momento in cui le nostre libertà individuali sono compresse, io voglio vedere se qualcuno di loro potrebbe accettare un decreto del presidente del consiglio dei ministri che vieta gli scioperi, no perché gli scioperi non si possono vietare, perché siamo un paese di sinistra, per cui se c'è il decreto del presidente del consiglio dei ministri che vieta gli scioperi ci sarebbe un casino della Madonna sui giornali, invece se il decreto del presidente del consiglio dei ministri vieta a noi di uscire di casa zitti e muti, se il presidente del consiglio dei ministri controlla i nostri telefoni, controlla i nostri, controlla i droni, ci fa le multe per 12 anni di galera, tutto questo col DPCM, zitti e muti, ma se vietasse lo sciopero? Toc toc! Conte, che succede se vieti lo sciopero? Io voglio sapere che cosa succede in questo paese se il presidente del consiglio vietasse lo sciopero, un mazzo così gli farebbero a Conte che di fatti non lo farà, io lo farei subito. Feltri dal punto di vista politico prende un altro lato e cioè il lato di Feltri è, ma Salvini batti un colpo? Insomma Feltri oggi sul giornale, sul suo giornale libero, fa una critica al capo dell'opposizione su due cose, la prima l'inefficacia della posizione di Salvini, lo fa amichevolmente, ma Feltri è uno di quelli che se ne fotte ovviamente delle appartenenze politiche e per questo è adorabile. La seconda cosa che dice Feltri e Salvini, beh guarda che su questa cosa delle carceri non fare troppo il duro caro Salvini, perché dei 60.000 carcerati ci sono 10.000 in attesa di giudizio, insomma in questo momento ci sono 10.000 persone in attesa di giudizio e i carcerati, puoi togliere la libertà ed è giusto che si tolga, ma non la dignità, scrive Feltri coraggiosamente oggi. Boris Johnson cambia completamente idea, Daily Mail ci dice lockdown Britain, cioè sostanzialmente stanno chiudendo tutto quanto in Gran Bretagna un po' come noi e poi dal punto di vista politico c'è l'Olanda che l'Eurogruppo di oggi si sta come tutti i paesi del nord facendo quello che sappiamo bene, l'Olanda la seconda è il poliziotto cattivo, il poliziotto buono tra Germania e Olanda, così funziona l'Europa ed è il retroscena più banale del mondo, la Germania fa l'avvolto buono e l'Olanda quello cattivo o il contrario e non vuole fare il Covid Bond, cioè sostanzialmente quella vecchia proposta italiana ma non solo, di fare un'obbligazione europea che avrebbe il vantaggio di essere garantita dal fatto di essere europea e non di un singolo paese, ma ovviamente gli olandesi se ne fottono, fantastico Nicola Morra che è un uomo importante del Movimento 5 Stelle, lo nota Luciano Capone ma è stupendo questo tweet e ve lo devo veramente sottoporre perché così capite, così capite cosa vuol dire aver bloccato i licenziamenti è un'altra stupidaggine incredibile, così capite la logica che c'è dietro alla vittoria non del virus, ma come dice De Aglio il problema sarà quando il virus sarà sconfitto perché vinceranno quelli come Morra, capo, diciamo uno dei capetti del Movimento 5 Stelle e che scrive quando sarà finita potremo disfarci, quando sarà finita dice Morra potremo disfarci di modelli sociali che si sono rivelati sbagliati, tragicamente sbagliati, modelli sociali che si sono rivelati tragicamente sbagliati, come se il nostro modello, quello del nostro modello capitalistico è quello che si è rivelato tragicamente sbagliato, non quello cinese, quello italiano, tragicamente sbagliati e capire che si vive non solo per produrre, consumare e guadagnare, aperta parentesi pochi, guadagnare pochi guadagnano perché invece Morra non guadagna, è uno di quei pochi che guadagna Morra perché è pagato da tutti noi contribuenti, allora avete capito qual è il nostro incubo? Che dopo questa grande emergenza ne avremo un'altra, cioè di avere a che fare con la gente alla Morra, che legittimamente può dire quello che vuole ovviamente, ma che è un'idea politica completamente diversa dalla nostra, devo dire che poi io rispetto le opinioni di tutte, non quelle di Villarosa che è un piccolo ras del Movimento 5 Stelle che ancora ci prende per i fondelli dopo che hanno aumentato di due… no, non lo faccio, non lo faccio perché sennò poi qualcuno mi dice che poi mi becco le querele, non voglio fare niente, neanche il Tok Tok si merita, nel frattempo Zuckerberg che cosa dice? Zuckerberg attenzione perché la pandemia, lo scrive Francesco Del Vigo, non può continuare a lungo e sapete perché? Perché i nostri server di Facebook non durano, gli stessi che mi stanno ospitando a me in questo momento, ci sono migliaia di persone che mi ascoltano, ringrazio questa possibilità, c'è anche Instagram, c'è il sito nicolaporro.it, c'è YouTube, c'è la rete, ci ha reso più liberi, però dice attenzione che non possiamo durare a lungo perché stiamo assorbendo un sacco di banda, beh io vorrei spiegare a Zuckerberg una cosa molto semplice, che ieri l'Inps, che dovrebbe essere l'ente previdenziale più importante italiano, dove c'è un uomo nominato ai 5 Stelle, Tridico, che avrebbe dovuto rivoluzionare l'Inps, dove ci sono migliaia di dipendenti, beh l'Inps che avrebbe dovuto dare i 600 euro e non ha dato ancora un euro è stato tutto il giorno in bomba, non funzionava, quindi Zuckerberg sai che ti dico come sa bene il Presidente del Consiglio Conte, meglio Zuckerberg che Inps. Ultima cosa, è morto Alberto Arbasino, io vi devo confessare una cosa tremenda e ve lo dico, ve lo dico perché odio quelle persone che dicono adesso devo rileggere, non so, il libro Tal dei Tali, che è un libro famosissimo, mi devo rileggere, che ne so, la Recherche, non l'hai mai letta, non dire che me lo devo rileggere, è un modo per dire di leggere, io di Arbasino non ho mai letto nulla, quindi faccio ammenda della mia totale ignoranza, totale ignoranza, non ho mai letto nulla di Arbasino, mi spiace, però oggi ho capito che era un grande, l'ho capito e non ci voleva oggi, forse l'avrei potuto capire già dall'altro ieri, sono un totale ignorante e come me molti ovviamente lo sono ma non hanno il coraggio di dirlo, non lo è sicuramente Massimiliano Parente che oggi lo racconta in maniera, come sa fare Parente, deliziosa, anticonvenzionale sul giornale, quindi per tutti gli ignoranti che non conoscono Arbasino io consiglio di leggere oggi Parente sul giornale perché devo dire che è molto divertente il suo racconto ed è anche molto interessante, arriverà la scusa della banda anche il blocco dei social, guarda c'è ragione, con la scusa della banda arriverà anche un blocco dei social e allora lì siamo fottuti, già il mio sito zoppica ogni tanto perché c'è troppi accessi rispetto alla banda che gli abbiamo dato nel passato, io vi do un sacco di saluti, l'Inps è lo specchio dell'Italia, brava Barbara, l'Inps è lo specchio dell'Italia, un carrozzone con tanta gente guidato dal comunista che finge di non essere tale e che dovrebbe erogare risorse che non erogherà mai, bravissima, l'Inps è veramente lo specchio dell'Italia, ciao. Grazie.